Se dietro ciascuno di noi non c'è una famiglia, un amore di un marito, un compagno, una compagna che ti sostiene, che crede in te, che ti dà la forza anche quando caschi per rialzarti, ecco perché io credo che dobbiamo ringraziare tutte le nostre famiglie che ci sopportano quando siamo in campagna elettorale, che ci sostengono. Sono magari gli occindanti senza persa, qualcuno ce l'ha pure, però senza di loro non potremmo andare avanti e per questo si è ottenuto nella mia vita politica qualche risultato, lo devo soprattutto a mia moglie, e anche ai miei figli e a mia famiglia. Mi scuso con loro se ho sottratto affetto, tempo, momenti di gioia, ma l'ho sempre fatto e lo loro sanno. perché ci credevo e perché ci credo adesso. Applausi 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 Applausi